In queste settimane di chiusura delle scuole molte le famiglie lombarde che ne hanno approfittato per riaprire le loro seconde case nelle località di villeggiatura di Valtellina e Valchiavenna, venendo qui a trascorrere periodi di soggiorno per alleggerire un po' la tensione dell'emergenza o addirittura in qualche caso anche a pendolare tra la montagna e la città. La formulazione del decreto di domenica scorsa infatti lasciava spazio a qualche margine di libera interpretazione parlando di rientro consentito presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Ma da quando gli impianti sciistici sono chiusi e soprattutto con l'introduzione dei limiti alla libertà di spostamento l'ipotesi viene esclusa. Lo ha ribadito ieri sera il prefetto di Sondrio Salvatore Pasquariello nell'annunciare da oggi il potenziamento dei controlli stradali per verificare che chi si muove sulle nostre strade e lo stesso vale per chi viaggia in treno lo faccia per le comprovate ragioni di lavoro, salute e necessità. Raggiungere le seconde case non rientra in questa casistica. Tutti coloro che sono proprietari di seconde case tengano conto che venendo da fuori Sondrio troveranno dei controlli ed è bene quindi che osservino alla lettera il divieto di muoversi da casa se non per casi motivati e di stretta necessità. Infine gli spostamenti di cortoraggio in città o nel proprio comune a piedi o in bici sono consentiti precisa una nota esplicativa del prefetto. Alcuni esempi svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, dedicarsi alla gestione quotidiana degli animali domestici, la camminata o la corsetta, la passeggiata col cane vanno bene, aggiunge il comandante della polizia locale di Sondrio Mauro Bradanini. L'importante è farlo da soli o in numero estremamente ristretto di persone mantenendo sempre la distanza di almeno un metro. I parchi e i giardini comunali sono stati chiusi proprio per impedire i possibili assembramenti.